Gentili telespettatori, buona giornata, rassegna stampa di oggi, giovedì 28 novembre 2024, Corriere della Sera, Commissione, Unione Europea, via libera al bis di Ursula, ma la fiducia è la più bassa mai registrata. E poi vediamo Rai, strappo tra alleati, bocciata la scelta della Lega che reagisce astenendosi sulla sanità in Calabria. Quindi l'altro ieri va sotto il governo per colpa di Forza Italia, ieri va sotto il governo perché la Lega fa un dispetto a Forza Italia. PD e Movimento 5 Stelle dicono sono a pezzi. Sul taglio del canone, quindi l'abbassamento delle tasse, Forza Italia vota con l'opposizione, con la sinistra che dicono no all'abbassamento delle tasse. Meloni dice inciampo che non giova a nessuno. Andiamo adesso a vedere la Repubblica, la maggioranza spaccata, Forza Italia si smarche, al Senato si schiera con l'opposizione, il centrodestra va sotto, no al taglio del canone Rai, chiesto da Salvini. La Lega si vendica e boccia un provvedimento di Forza Italia sulla sanità in Calabria. Meloni striglia Tajani, il PD, il governo è allo sbando. Europa passa la misura alla nuova commissione di von der Leyen, mai così pochi voti. e poi andiamo a vedere per le strade di Beirut il primo giorno di tregua. Andiamo adesso a vedere la stampa. Il governo sbanda, l'ira di Meloni, canone Rai e Sanità e poi via libera la commissione von der Leyen con una mini maggioranza. Masch attacca l'Unione Europea. e vediamo adesso il carattere Juve. Champions, la Juve degli infortunati, pareggia con la Stone Villa. E poi Cairo apre alla vendita, i ventenni finiscono. Andiamo adesso a vedere Ursula, la centratrice che non ha l'autonomia. E adesso vediamo il resto del Carlino. Il taglio del canone Rai spacca il governo. Forza Italia vota con l'opposizione. Bocciata la proposta della Lega che puntava alla riduzione da 90-70 euro. L'irritazione di Meloni, Tajani, provvedimento sbagliato. Salvini, anche Berlusconi, voleva abbassarlo. La segreteria Dem con la Schlein dice sono allo sbando. E poi vediamo maggioranza rischia, risicata, 370 voti e partiti divisi per l'Ursula Bis. La nuova commissione dell'Unione Europea parte in salita. E poi rabbia Landini, scioperare tutti queste riforme ricordano Monti. Farnetica ovviamente. E adesso passiamo a vedere il fatto quotidiano. Il PM Nordio parlava di tutto, oggi da ministro si punirebbe. Da esternatore seriale sulle leggi a supercensore. Bavaglio. Sorelle d'Europa e fratelli Coltelli, Euro in Ciuccio, fratelli d'Italia PD e a Roma le destre litigano su tutto. La FAIDA forza Italia-Lega, mentre in Unione Europea i Meloniani e i Dem votano Ursula 2, il governo va sotto su Cano, Nerai e Calabria. Andiamo adesso a vedere il messaggero. Ursula partenza in salita, via libera la commissione con 370 sì, 31 in meno dello scorso luglio e record negativo di sempre, i contrari sia nei socialisti, tra loro anche due Dem, sia nel PPE. Fitto, dobbiamo ritrovare l'unità. E poi sul Cano negli azzurri votano con la sinistra Rai e Sanità, Scintille, Forza Italia-Lega Meloni ora tregua come il Libano. Netanyahu frena il ritorno dei civili, ma dopo Beirut spera anche Gaza. Amsterdam vietata, l'ira della Lazio, siamo vittime di pregiudizi. Andiamo a vedere adesso la verità. Sala apre un centro per migranti e sulla rivolta incolpa la destra. I disordini del corvetto non svegliano la sinistra. Da anni raccontiamo dei pericolosi ghetti dove si intrecciano stranieri, degrado, case occupate, criminalità. La risposta è sempre stata il vuoto ritornello, ci vuole più integrazione. Così ora ci ritroviamo con le banlieue. E poi intervista a Matteo Salvini, non voglio litigare con Tajani, ma gli ricordo che ci hanno eletto per abbassare le tasse. Però Tajani esegue gli ordini come maggiordomo della famiglia Berlusconi. Non toccare la Rai, perché poi si va a finire a toccare Mediaset. Questo è il punto. Forza Italia staccola il PD, la maggioranza va sotto sul taglio del canone Rai. Pochi voti, tante zuffe, Ursula Bis nasce zoppa. Il sì risicatissimo, appena il 51% dell'Europarlamento, la nuova commissione. Rischio, paralisi, politica. Soldi ai partiti, l'autogolda manuale della casta. Sul finanziamento pubblico si può discutere, non fare emendamenti. Germinella, chissà cosa vuol dire l'emendamento Germinella, mai sentito. E adesso andiamo a vedere il giornale. L'agenda della politica, Rai primo inciampo in maggioranza, Forza Italia, patti chiari, amicizia lunga. Landini pronto a bloccare l'Italia, ma non ha bloccato la fuga della Fiat. Domani lo sciopero generale, ideologico, propagandistico. E poi vediamo Europa, governo al via, prove di centrodestra. Parte la nuova commissione col conservatore fitto, come dice, un successo targato Meloni. E poi Santoro riabilita Berlusconi, non era mafioso. Beh, insomma, finalmente qualche parola che si spende positiva verso Silvio. Andiamo adesso a vedere, libero quotidiano, la sinistra coccola chi mette a suo quadro Milano. Il PD chiede verità nella fuga e invoca comprensione per gli immigrati in rivolta. Sala attacca la destra. La comprensione, grande PD, veramente ci lascia ogni giorno senza parole. Ma vediamo. Salvini parla del Casorai, al convegno di Libero, nessun problema nella maggioranza. Andiamo avanti con le riforme. Ursula pesa un pugno di voti e a Fratelli d'Italia. Von der Leyen paralizzata, per fortuna anche sul Green Deal. Andiamo a vedere se è pronto il tempo. Vediamo se è pronto il tempo. È quello di giovedì. Sì, Ursulina sedestra. Il tempo sempre con questi titoli, insomma, sarcastici. Via libera di Von der Leyen, vince Meloni con ECR, sinistra e Verdi spaccano. Grillo ha i suoi, Conte deve fare un altro partito, ma Giuseppi punta al Movimento 5 Stelle. C'è un tesoretto da 5 milioni. Santoro e la verità postuma. Silvio e le stragi sono solo fandonie. E va a dirlo di più. Ho sempre votato Forza Italia. Questa è la vignetta comunque di Osho. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.